Ben trovati dal Tg della mobilità, lavoro in corso sulla metro B per il rinnovo dell'infrastruttura nella stazione di Eur Fermi. Fino al 23 agosto è interrotto il servizio tra Eur Magliana e Laurentina, ma il collegamento prosegue con le navette bus. Regolare il servizio tra le stazioni di Eur Magliana e Rebibbia Ionio. Continuano gli interventi in città sulla rete tramviaria. Sino venerdì 14 agosto bus al posto dei tram sulle linee 5, 14 e 19 per lavori in piazzale Labicano via Eleniana e sulla preferenziale di via Prenestina. Deviazioni anche per le linee 81, 412, MC3, NMC. Dettagli su muoversiaroma.it. Infine ricordiamo che via dei fori imperiali oggi è isola pedonale per l'intera giornata. Deviazione quindi per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. È tutto per questo appuntamento del Tg della mobilità.